Irina Shayk cede alla passione con Bradley Cooper, l'uscita si fa hot Lei è una top model di successo, lui uno degli attori più quotati di Hollywood e insieme hanno avuto da pochi mesi la piccola Lea De Seine e Shayk Cooper, che ha stregato entrambi i genitori Diventare padre e madre però non ha frenato la loro passione, Irina Shayk e Bradley Cooper si amano e lo dimostrano in ogni momento e in tutte le loro uscite pubbliche Pochi giorni fa ad esempio sono stati avvistati a Malibu in California durante un'uscita romantica, mentre erano diretti verso casa di un loro amico I due, vestiti in modo casual, hanno dato spettacolo con un gesto decisamente hot, la Shayk ha afferrato con la mano il fondo schiena del partner, non riuscendo a resistere al suo fascino La coppia si trovava in compagnia di un amico, che camminava insieme a loro e tutti e tre sembravano divertiti dalla situazione, sorridendo in modo complice Malibu è un tranquillo pomeriggio di passione. A Malibu era una giornata fresca di sole, Irina Shayk e Bradley Cooper si stavano godendo un'uscita a due, diventata poi a tre con l'amico che lì ha raggiunti Il bell'attore di Hollywood indossava un outfit casual con pantaloni della tuta corti e grigi, una felpa senza cappuccio scura e un paio di sneakers sportive Oltre a questo, indossava un paio di occhiali scuri coprenti, una catenella pendente al collo e teneva i capelli legati dietro alla nuca Insieme a lui, la compagna top model Irina Shayk ha sfoggiato un outfit altrettanto casual con jeans chiari lunghi, un paio di sneakers sportive con il plateau e una canotta nera aderente I suoi capelli erano sciolti lungo le spalle e indossava occhiali scuri modello vintage La bellezza naturale della coppia ha stupito il pubblico che, vedendo le foto della loro uscita in uno stile completamente casual, ha sottolineato ancora una volta quanto non servono artifici per mostrarsi al top della propria forma Irina Shayk e Bradley Cooper, storia di un amore folle Stanno insieme dal 2015, ma i due hanno già condiviso progetti importanti per la loro vita Irina Shayk e Bradley Cooper sono una delle coppie più seguite del mondo dello spettacolo e si mostrano sempre più felici che mai La loro riservatezza non ha fatto altro che aumentare ancora di più l'interesse della stampa e del pubblico sulla loro vita privata, di loro infatti si è sempre saputo poco e anche il nome della figlia neonata è stato rivelato non senza difficoltà Si sono conosciuti a casa di amici, la top model era reduce da una storia lunga con Cristiano Ronaldo, ma il loro è stato praticamente un colpo di fulmine La loro storia è diventata pubblica insieme a uno scatto pubblicato su Instagram che li ritraeva in piscina, abbracciati, in seguito alla quale hanno iniziato a fare alcune uscite pubbliche insieme Non è trascorso molto tempo prima che la top model rivelasse al mondo di essere incinta e l'ha fatto proprio durante la sfilata del Victoria's Secret Fashion Show, in cui si indossava un completo intimo che mostrava le curve della dolce attesa Il parto è avvenuto in gran segreto, sempre per preservare la loro privacy e quella della bambina, ma la curiosità dei fan non ha dato tregua alla coppia, che così è uscita allo scoperto con la neonata Grazie a tutti